Era lontana da nove mesi dal suo paese di origine, Racalmuto, quando ha deciso di tornare ha scoperto non soltanto che nella sua abitazione rurale di Contrada Montagna Gentile c'era stato un furto, ma che l'appezzamento di terreno adiacente alla residenza era stato trasformato in un deposito di veicoli rubati e di parti meccaniche di auto. Sono sei i mezzi che sono stati sequestrati dai carabinieri di Racalmuto in provincia di Agrigento e che sono risultati essere stati rubati tutti a Palermo. Nello stesso deposito sono state ritrovate la targa di una Fiat Grande Punto che lo scorso marzo era stata rubata a Roccamena, sempre nel Palermitano, e quella di una Fiat Punto rubata da Agrigento nello gennaio scorso. Protagonista dello spiacevole episodio è stata una cinquantenne di origini racalmutesi residente da tanto tempo in Belgio. La donna non tornava racalmuto dall'agorso dello scorso anno. Qualcuno, dopo aver forzato il cancello d'ingresso della proprietà e la porta d'ingresso dell'abitazione, ha rubato una televisione non funzionante, un forno elettrico e un fusto di acciaio contenente 50 litri di olio di oliva. Ma ciò che ha allarmato maggiormente la donna sono state le sei carcasse di automobili ritrovate in giardino. Si tratta di tre Fiat Panda rubate a Palermo, due Fiat 500 anch'esse rubate nel capoluogo siciliano e una Fiat Doblo sparita improvvisamente sempre da Palermo. Intanto sono subito partite le indagini dei carabinieri per stabilire cosa sia realmente successo, chi è stato ad agire in quella zona di racalmuto quasi al confine con il territorio di Grotte. L'attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.